A nome mio e a nome della società vogliamo mandare tanti acuri di buone feste e buon Natale a tutti i nostri tesserati oltre 80, alle vostre famiglie, a chi ci segue da vicino quest'anno purtroppo da lontano, a tutti i nostri sponsor e speriamo di tornare presto con le nostre attività giovanili, fare quello che più ci diverte, tanti acuri e forza Ascoli serve! Ciao a tutti, sono Fred, io sono Guy e auguriamo a tutti un ottimo Natale e auguri a tutti, buon Natale! Ciao ragazzi, tanti acuri di buon Natale e felice anno nuovo e forza a SKL! Tantissimi auguri a tutti, che il Natale possa portare nelle vostre case un'unione pace e serenità! Un auguri da Mr. Sapir! Tanti auguri a tutti e forza Futsal ASKL! Ciao, sono Giulio, vengo a darvi un auguri di buon Natale e un felice anno nuovo a tutti! Un abbraccio! Ciao a tutti, voglio fare un grande augurio a tutti i nostri tesserati, alle loro famiglie, a tutti i nostri sponsor, a tutti quelli che ci vengono seguiti al campo e da casa e a tutti i tifosi di Ascoli! Forza Futsal ASKL! Forza Ascoli! E tanti auguri! Forza Futsal ASKL! Grazie.